Come gruppo Power Unit il 2024 ci pone davanti a due sfide fondamentali. La prima è chiaramente la stagione in pista su cui concentriamo il massimo dei nostri sforzi. Una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa quanto mai. Il livello di attenzione, il livello di obiettivi e di esigenze che abbiamo davanti è certamente molto elevato. I tempi di reazione in caso di criticità sono molto ristretti e anche le ore concesse a regolamento per lo sviluppo di eventuali varianti di affidabilità piuttosto che di ottimizzazione dei weekend di gara si sono la concentrazione e il focus. A fianco della stagione 2024 c'è poi la preparazione del nuovo progetto Power Unit 2026 che sta entrando sempre più nel vivo e anche su questo campo dovremo stare attenti a mantenere alta l'attenzione in modo tale che tutti i piani possano procedere come da pianificazione. Quindi un 2024 che si prospetta particolarmente impegnativo ma al tempo stesso entusiasmante. Di solito i primi aspetti su cui si pone l'attenzione sono sempre i punti aperti dalla stagione precedente. La stagione 2023 comunque ci ha fatto vedere alcuni punti di attenzione ed è su questi che sin dalla metà dello scorso anno ci siamo concentrati per primi. Poi successivamente abbiamo iniziato a guardare i dettagli perché l'anno scorso ci ha mostrato quanto ogni singolo dettaglio sia fondamentale. Abbiamo quindi rivisto a 360 gradi tutti i processi che riguardano il nostro prodotto dal progetto che chiaramente è congelato per quanto riguarda gli aspetti prestazionali fino alla sua preparazione, fino alla delibera, alla gestione del prodotto in pista ed è quindi su questo che abbiamo concentrato successivamente l'attenzione e il lavoro per prepararci al meglio la prossima stagione. Come gruppo l'obiettivo è sempre uno, quello di massimizzare il livello di performance della power unit in ogni condizione operativa in cui si troverà ad operare. Di fatto quindi cercare di massimizzare sempre il potenziale del progetto. È chiaro che con l'incremento del numero di gare a parità di numero di power unit il livello dell'obiettivo e delle esigenze diventa sempre più alto. È chiaro che l'impegno per cercare di operare al meglio la power unit in pista, in contesti anche geografici particolarmente differenti, è totalizzante ed è sempre piuttosto elevato. Quindi è impegnativo, è stato impegnativo e non è impegnativo solo per il gruppo power unit. Di fatto ogni reparto è chiamato ad attivarsi e chiaramente a lavorare in questa direzione e da questo punto di vista l'impegno dei colleghi, della qualità, della supply chain, di tutto il gruppo di pianificazione è stato estremamente importante per assicurare un prodotto, quello della power unit, che possa appunto operare al meglio delle sue possibilità. Il livello delle power unit è talmente complesso sin dalla loro introduzione nel 2014 che sarebbe difficile pensare di riuscire a fare tutto da soli ed è per questo che lavoriamo insieme a tanti partner tecnici, insieme a tante collaborazioni che sono di estremo aiuto ed estremamente preziose per garantirci appunto di avere sempre la confidenza massima di aver preparato tutte le stagioni che stanno per iniziare con la massima attenzione. Di fatto siamo molto contenti del parco di partner che abbiamo a disposizione perché non si tratta solo della fase di progetto, si tratta anche della fase di manutenzione del prodotto, di preparazione delle gare e anche di riuscire con le diagnosi e con i risultati che possiamo avere alla fine di ogni sessione a capire in ogni circostanza lo stato di salute del motore, dei componenti elettrici, elettronici e in generale della power unit. In questo per esempio abbiamo un costante monitoraggio dei fluidi, per esempio sull'olio, dove grazie a Shell e riusciamo costantemente a monitorare lo stato di salute del nostro motore.